Ciao a tutti, oggi andiamo a parlare di una funzione che riguarda il testo. Il testo è una funzione che non è molto conosciuta e devo dire che anch'io non la uso molto, però potrebbe esserci utile in qualche modo oppure ognuno poi sceglierà le proprie preferenze. Allora andiamola a vedere subito senza perderci in tante parole perché facciamo prima a spiegarlo. Allora userò come al solito il tastierino di LB Keyboard che è quello che mi consente senza andare a cercare tutte le icone in alto, a destra e a sinistra di lavorare con appunto con questo tastierino che non è altro che un cellulare Android anche vecchio collegato con il computer. Allora iniziamo con andare a selezionare il testo dal tastierino e andiamo a scrivere qualcosa. Per ora scriverò solamente una lettera, anzi la faccio maiuscola perché mi torna meglio. Ecco, a questo punto io vado a selezionare il tasto selezione e vedete che ho normalmente questo qua, tra le altre cose quello per incurvarlo, insomma c'è tutto. Allora qual è la funzione che volevo farvi vedere con questo video? È questa. cosa? Allora andiamo a selezionare il font, la lettera e andiamo qui in fondo utilizzando il tasto destro del mouse andiamo in modifica forma di testo. Vediamo cosa si apre. Si apre questa finestra di dialogo che altro non è se non il menu che solitamente troviamo qui in alto, qui dove c'è il carattere, il tipo di carattere, l'altezza eccetera eccetera. Ecco in questo caso io ho un Arial, vedete questo è un Arial e queste sono le varie proprietà, quindi l'altezza perché l'ho modificata ma posso andare a mettere un valore che voglio io in punti e poi posso andare, ho dato l'ok quindi si è richiusa, posso andare a cercare la spazzatura, poi c'è grassetto, maiuscolo, minuscolo, saldato, allineamento che può essere a linea X, vedete, centrale, destra e sinistra che è presente come quello qui sopra, quindi è in questa finestra. Allora perché ve la faccio vedere? Perché a volte qualcuno mi ha chiesto anche come faccio a fare un testo in verticale? Allora in molti anche sul gruppo Facebook gli hanno risposto dicendo vabbè fai questo, vai su selezioni il font, poi dai un invio, anzi diciamo cancelliamo questo, ricominciamo da capo, riseleziono il testo, poi faccio per farlo in verticale, scrivo A e scrivo la lettera A in questo modo, poi do un ritorno a capo, poi faccio B, poi faccio C, poi faccio D, poi faccio E. Ecco questo è il sistema per scriverlo in verticale. La stessa cosa la possiamo fare, e adesso io ritorno in selezione normale, possiamo farla in un altro modo, cioè prendo la A, sempre maiuscola, poi vado a selezionare e vado a fare questa, vado a aprire questa finestra di modifica. In questo punto anche qui lo posso fare, A torno a capo, B, C, D, E, e vedete che me lo può fare anche in questo modo. Qui qual è la differenza? A parte che adesso è lo scritto un po' troppo in alto, abbassiamo così, qual è la differenza? Che la differenza è che io posso andare anche a avere sempre questo, che lo posso modificare. Qui posso andare a diminuire la, per esempio la spazzatura verticale, se le voglio fare più vicine alle lettere, lo faccio in questo modo, praticamente ho tutto in questa finestra, se voglio andare a correggere qualcosa, e qui ci voglio aggiungere per esempio FGH, vede che lo faccio subito di qui, posso aumentare l'altezza del font, ecco sono tutte cose che possiamo fare tranquillamente con il menu in alto, ma abbiamo tutto qua, se dobbiamo lavorare con i font, diciamo che sono la, forse un pochino più immediato, perché abbiamo tutto lì, le stesse cose possiamo fare quei testi lunghi, perché vi faccio vedere il verticale? Perché è quello che è stato chiesto, scrive testi normali, lo sappiamo fare tutti, non è un problema, quello verticale è un'altra cosa, ma però volevo farvi vedere anche una particolarità di un testo scritto in verticale, mettiamo che io utilizzo come in questo caso l'Arial, allora vado a chiudere questo, vado a chiudere questo, me lo porto giù, e questo me lo vado a eliminare, cancello, questo me lo vado a riselezionare tutto, me lo metto qua, e poi vado a fare, me lo ingrandisco un attimino, poi vado a prendere le due righe guida che si vanno a prendere in questo modo, perché vi faccio questo esempio, perché vi faccio vedere che questi font, non tutti i font sono adatti per avere una precisione nella scrittura nel senso verticale, nel senso orizzontale non ci accorgiamo di queste piccole cose, però se vogliamo fare un lavoro veramente interessante, ora questo qui è un font che già come esempio non è che sia molto calzante, ma vedremo in seguito, vedete che qui la B è più stretta della A, la C è una via di mezzo fra la B e la C, lo stesso la D e così via, la A è la più grossa, perché sta aperta, quindi se noi andiamo a fare, ora provo a cambiare il font, così magari si vede meglio, vedete, riapro questo, vado a cambiare il font, mettiamo che scelga un altro font e che sia un font un po' particolare, come vedete c'erano anche quelli monolinea, che sono un po' particolari, per esempio prendiamo l'elefante, ecco vedete con l'elefante, se vado a fare una scritta in questo modo, c'è un po' tutte le scritte, diciamo, che sono un pochettino sbilenche, un pochino tirano a destra, un pochino tirano a sinistra, un pochino spanciano a destra, un pochino spanciano a sinistra, non è il massimo della vita, almeno secondo me, quest'altro qui, vedete lo stesso, è abbastanza largo, per cui io solitamente, quando voglio fare una cosa veramente precisa, vado a cercare un fonte che sia il più vicino possibile all'allineamento della scritta, sì, sono un po' pignolo, allora, uno di questi, e che vi posso anche consigliare, è l'American Captain, è questo qua, ecco, vedete, questi sono praticamente, se io vado a spostare, diamo ok qua, se io vado a spostare le mie righe, sono praticamente quasi tutti, cioè tutti praticamente alla stessa altezza, ok? Quindi, se io vado a fare una scritta verticale in questo modo, riesco a, praticamente, ad avere un allenamento migliore. Ora qui non si nota molto, però se io arrivato a mettere quello di prima, quindi arrivato a mettere un qualsiasi font, abbiamo riutilizzato questo, andiamo a riprendere questa, questo qui, e andiamo a cambiare il font. Allora, questo siamo ancora su Arial, mettiamo per esempio un Taoma, che è molto utilizzato, ecco, vedete? E se le vado ad avvicinare le lettere con questo strumento qua, si nota anche molto di più, che sono un po' fatte qua a destra, un po' a sinistra. Allora, vi dicevo, faccio col Captain, American Captain, vediamo se me l'ho messo in cima, come quando solitamente si usano un progetto, no? Allora, dove? American Captain, eccolo qua. Ecco, vedete qui come sono molto più dritte? Ecco, questo è una cosa che a me piace di più, se vogliamo essere precisi dei nostri progetti. Un altro font, poi ve ne faccio vedere altri perché altrimenti sono, diventa lungo il video, ed è un video che bisogna liquidarne in pochi minuti, è il, uno, è l'Orbitron, Orbitron, che è un font che a me tra l'altro piace anche abbastanza, vedete ne ho parecchi di font, ma penso che anche voi ne abbiate veramente parecchi, Orbitron. Anche in questo caso, ecco, vedete che se io vado ad allargare, diamo ok qua, se io vado ad allargare questo, vedete? Sono tutti belli precisi, belli allineati. Questi font sono font che sono un po' cicciottelli, cioè sono tarchiatini, sono bassi e larghi, però funzionano bene. Un altro font è un font un po' particolare che ho utilizzato per vari lavori e che, adesso lo andiamo a prendere, che è il Bungie. Poi il Bungie, che è questo. Adesso ve lo faccio vedere. Ecco, ce ne sono di due tipi. Allora, ho il Bungie normale, e questo che ho io, perché ho utilizzato per un piccolo progetto, è il Bungie in line, ovvero sia che ha all'interno anche una piccola lettera. Adesso mi chiamano, devo interrompere un secondo il video. Scusate l'interruzione, ma l'ho dimenticato di spegnere momentaneamente il telefono. Non dimentichi che ogni tanto questo succede. Vabbè, tutto dal vivo, tutto in diretta, io registro tutto, eccetera. La telefonata, logicamente, non l'ho registrata. Allora, andiamo a vedere, anche in questo caso, andiamo a diminuire lo spazio verticale, la spaziatura verticale, e vedete come è bello allineato. Ecco, può piacere, può non piacere, però, ecco, cercate dei font che facciano bene il loro lavoro, nel senso che, se lo voglio mettere in verticale, sia fatto bene. Con questo è tutto per questo video. Penso che, spero che vi sia piaciuto. E, ve l'ho detto, questa è una funzione che non tantissimi usano, però a volte può essere interessante usarla, anche perché ce l'ho sempre qua. Posso andare a fare modifichi velocemente, senza tutte le volte andare a selezionare, di riselezionare, rimettere, rifare, eccetera, eccetera. Molto semplice. Io adesso vi lascio. Se vi è piaciuto il video, un bel like, e iscrivetevi al canale. Il 50% di chi guarda i miei video non è iscritto. Volete che lo metto a pagamento? Ecco, siccome è tutto gratis, allora, iscrivetevi, fate una cortesia, vi iscrivete, mettete anche la campanellina, perché se volete vedere quando esce un video nuovo, almeno, vi viene una notifica sul cellulare, oppure sul vostro computer, ma iscrivetevi. Vabbè, adesso, l'avevo già detto 50.000 volte, forse non ve lo dirò più, perché non farò più i video, così imparate. Ciao, alla prossima.